Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Stamattina siamo invitati a meditare il Vangelo di Marco, capitolo 6, versetti 1 a 6. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joeses, di Giuda e di Simone?» I sorelle non stanno qui da noi ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì e si meravigliava della loro incredibilità. E lui percorreva i villaggi d'intorno insegnando la parola del Signore. Ecco, proprio Gesù è chiaro su questo discorso. Il profeta è andato a casa sua. E quello che è successo esattamente lì a Nazareth, dopo aver soggiornato a Cafarna o Gesù, risale a casa sua a Nazareth. Purtroppo arriva lì e la gente, visto che già la sua fama era un po' dappertutto, la gente aspettava i miracoli, ma purtroppo nessun segno. Infatti, i suoi compaesani pensavano o volevano vedere un super uomo, uno che viene a lottare contro i Romani. Cioè, loro aspettavano una cosa di genere, ma in realtà Gesù viene per dimostrare che lui non entra in questa considerazione umana. È diversa dalla lotta politica. Lui viene per liberare l'uomo dall'interiore, dall'interno vorrei dire. Ecco, dunque ci vuole Raffaele per capire la posizione di Gesù Cristo. E perciò Gesù, guardando questo popolo, ha visto che c'è l'incredulità. Non ha potuto fare nessun segno. Solo impose le mani ad alcuni malati. Ecco, carissimi, penso, siamo numerosi a considerare Gesù Cristo come un mago, come un super uomo che corriamo verso di Lui perché Lui fa dei miracoli, perché Lui fa quello. Tanti di noi cominciano a pregare perché vogliono subito ricevere qualcosa da Gesù. Iniziano un cammino perché pensano che Gesù con un bastone magico, con una mano, sarà unicosa. Ma non è così con Gesù Cristo. Così sarà deluso. Con Gesù solo la fede. Con la fede, con la relazione intima con Gesù, con la fede, si ottiene qualsiasi cosa in nome di Gesù. Allora chiediamo allo Spirito di aumentare in noi la fede, di togliere la nostra incredulità in Gesù Cristo. Vi auguro una buona e santa giornata a tutti e a ciascuno. Dio è buono in ogni momento. In ogni momento Dio è sempre buono.